Una serie di controlli di carattere ambientale sono stati compiuti dai poliziotti del commissariato di Capodorlando, coordinati dal dirigente Carmelo Alioto e dal sostituto commissario Salvatore Ceraolo Spurio. Da questa attività è scaturito il sequestro di un'area e la denuncia di una persona. I poliziotti hanno monitorato svariati esercizi commerciali per le verifiche di carattere amministrativo. Di seguito, con la collaborazione del personale dell'ARPA di Messina, è stato individuato uno scarico abusivo di reflu in un'area vicina ad un deposito di carburanti a Mirto. I poliziotti hanno raggiunto la strada Rocca di Caprileone Due Fiumare, in un'area adibita anche alla rivendita di pneumatici ed autolavaggio. Questa attività, secondo le contestazioni della polizia, veniva effettuata senza autorizzazione riguardo allo scarico dei reflui. Questi finivano in un canale limitrofo all'area ed in parte nel terreno. Da questi si è proceduto al sequestro preventivo di tutta l'area ed il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Patti per violazione del decreto che regola le norme in materia ambientale, nello specifico gli scarichi di acqua e reflui industriali.